30.000 mi piace per una prossima football challenge in piscina e spamma qua sotto i commenti l'emoji del dado Bene ragazzi carichi come non mai da Fuse Gamer oggi ragazzi Siamo qui con un nuovo video assieme a tutti gli elizi Sì Oggi ragazzi football challenge o meglio dado tricolor football challenge Perché oggi ragazzi questo dado decreterà una challenge Come vedete in base ai colori ci saranno 3 team Quindi io con Omar, Mirko Contati, Mister con Harry Quindi proprio un tricolore all'italiana E chi vincerà? Le football challenge Antonio cosa vincerà? Avrà un premio speciale offerto da Goliador L'indizio se non l'hai mai Però lo scopriremo alla fine Quindi partiamo subito con il primo tiro di dato Lancio della prima sfida Vediamo cosa esce Numero, numero, numero Numero 4 mi sa Numero 4 che corrisponde Se non erro all'accuracy challenge Andiamo Allora l'accuracy consiste Nel prendere la porta piccola, medio o grande Rispettivamente ovviamente La più piccola è più difficile quindi 3 punti La media 2 punti e la grande 1 punto Partiamo noi Omar Squadra bianca Dai Andre mi raccomando Dai primo tiro ragazzi della giornata Carichi come non mai Andre Vado La porticina quella dietro No Omar in realtà dovevo prendere quella grande Va bene fa niente dai Quindi Quindi let's go Sietati No questa non so tirare Questa è troppo due Ma questo fa male Ma niente Andre Non ci pensare Fa niente che sia un pallone normale Faccio così guarda con questa Lo scavetto Bravo Andrea Ciao ragazzi Mamma mia Omar confidi in te Tu che Andrea Io mi tolgo subito quella pesante Va benissimo Facciamo punto almeno Ne fai uno buono Esatto Vado eh Vediamo Omar Ok un punto dai Let's go Vai 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 Possiamo prendere la piccola Andrea Intanto prendo l'altra Ok Vado con la piccola eh Ok Quella piccola dietro Quella piccola Viene l'altra casa Vai Omar ti prego Almeno i due punti Bravo Sì I due punti va bene Let's go Vanno bene Ragazzi team verde Dobbiamo vincere Mirko almeno 4 punti 3 anche Perché sono contento Va bene Vai No quella più piccola Andrea Fa più punti Bella Mi Io non calcio di punta Mi il piatto Mi Marta bella piccola Oh buona Bello Vado Vai Tate Oddio Godo Non ci credo In croce ho preso Vi tentano che sarei più fortunato Oh che buona Marcos Brava voltati Vado per quella piccolina Ragazzi Addirittura Guardi quella piccolina Non ci credo Ma che sfigaciò Anto è il nostro turno ora Inizio io Esattamente Inizi te Dobbiamo fare anche Una suma di 3 punti Dai Per superare tutti Vai mister Il primo è andato Dai ragazzi Anto la porta piccola Sono da puntare Rangiolla Vai Anto quella piccola Vai Che la la potei piccola C'è il vino buono Bello 2 2 2 2 2 2 2 più in croce Però già abbiamo Correggio Anto siamo già messi bene Ok Vado col terzo tiro Speriamo già di superare tutti Vai Anto vai Anto Compito tuo Bello Gole 1 1 1 Siamo già a 3 Raga ora è il mio turno Parto con il pallone Quello più pesante Che è quello che mi da più fastidio Diciamo Vai Enrico Eh vabbè è logico 1 4 punti 4 punti Secondo me adesso Prende la piccola Vai Enrico Fuori 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 Vabbè per la gloria Per la gloria Enrico ancora 3 points Andiamo a 7 7 7 Quindi il team rosso Si aggiudica la prima challenge Yes Let's go Prossimo tiro di dato Vediamo cosa esce Come svantaggio 3 3 Cosa era 3 Tacco Tiro di tacco Allora Va bene Vai andiamo Tiro di tacco ragazzi Consiste nell'effettuare appunto 3 tiri a testa Di tacco Da questa distanza Ogni gol corrisponde a un punto Quindi andiamo Parto io e Harry Come prima Vai Anto Vado bene Vado Harry Vai Anto Sento la porta L'ho sentita molto bene No Che gol Quasi quasi Il mio compagno di team Mi ha consigliato un'altra tecnica La proverò nel terzo tiro Andiamo Sì Funziona Vamos Dopo il primo punto di mister Tenterò di fare 3 su 3 Vado col primo Bravo Harry Un punto è andato Andata tecnica Cambio tecnica La legge mi dice di cambiare tecnica Ok Tiro numero 2 Eh L'ho sentito che l'ho buttata verso l'esterno Terzo è sempre buono Enrico Vai Proviamo a fare i fenomeni No Yes Ma questo vale 1 o vale 10 No dai 2 Oh Mark Che tiro di tacco dovrei fare secondo te Quello che va dentro la porta Andrea Dritto per dritto Aspetta Andrea Drittissimo Ma il campo che è un pochino Provo la tecnica dei rossi Vai vai Oh 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 Mi scopiono tecniche quando vuoi Vai vai Qui sarà un po' più difficile Basta che va da dentro Andrea Indipendente Eccolo Via Grazie Enrico Ecco Due punte anche per noi Quanti punti avete fatto? 3 Quindi dai Omar Ok ragazzi tocca a me Andrea Due gol Omar mi raccomando Farò una tecnica ancora più nuova Di potenza eh Ce l'ho No Eh vabbè Vabbè vado con la tecnica Tanto sbaglio Vado Andrea Vai Eh ho un sacco Peggio della punta Andrea Vabbè un po' nulla Va Omar Basta bareggiare Allora facciamo così dai Ok Vabbè È proprio schifo Vado Ciao Questa qua è la mia challenge Sì Allora tu sei ci proviamo Vai andiamo Bravo È la mia challenge questa Si vede Vabbè dai eh La prima delice Ci trovo Bello Perfetto Altro angolo Vado in giro un'altra volta No Dai Ben culpo Per fare giocare Devo provare a fare 3 su 3 Raga è difficile Ma forse Ti devi fare Bello Stava facendo lo sgambetto da solo Corri Bello Ma 3 su 3 che devi segnare No 3 errori su 2 Ah ok Pensavo che era 3 tu No 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 Vabbè la classe non è acqua Ragazzi lo sapete È che appa Bella Sì bravo Coerente Coerente così mi piaci Vabbè 0 Va bene Un bel risultato Mi piace Il team rosso si aggiudica anche la sfida col tacco Vai Andro Quindi Henry a te l'onore di tirare di nuovo il dado Let's go Vediamo Attenzione Il dado cira Non si ferma C'è un po' di vento che l'accompagna Incredibile Numero 6 La long shot Long shot Long shot Ok Andiamo di long shot Vai partono i verdi Quindi vai Tatino C'è una regola però non deve rimbalzare sul prato Quindi direttamente in porto Ok Anche perché non è molto molto lontana Quindi andate Vado col primo tiro ragazzi Attenzione al prato eh Eh Ma forse ci deve andare di palonetto Non so Vai Tati Bravo No Questa mi è piaciuta però Vai Tati che questa è buona Buona Ah Ahia Mannaggia Vai Mirko Almeno tu dai Mirko Mamma mia Bello Ok un po' fa Questa Vai Mirko la sua terra Così Oh Mamma mia Una girata a battaglia Vai Che cittadini che fai Oh questo è buono Sì Non lo so Sì Enrico che dici Sulla linea rimbalzata Sulla linea rimbalzata Buona Buona punto Vado Accarezzò l'obiettivo Ma è troppo forte Vabbè dai Però la direzione era quella eh Vende c'è anche il vento eh No Anche gol Vabbè Accarezzalo Accarezzalo Quella puntazza ho tirato Ok Andrea vado io eh Vai Omar ti prego Almeno tu So che confidi in me Almeno un punto Non due Un punto Buona questa Bravissimo So che confidi in me Andrei Sì Vai dai dai Regniamo almeno per una volta È come la loro È come la loro Non mi interessa Mi so dice prima Mi so dice prima Eh ma è come quella dei verdi Eh per me vale Vabbè ce la rubano Andrea Vabbè grazie Ditecela voi raga Questa mi sa che è fuori proprio Però di poco Almeno un punto l'abbiamo fatto Esatto Il team rosso Deve salvare la situazione Vado di là va Vado Erni Vai Anto Attenzione Antonio Fusco Vai 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 Anto Sì Sempre lì Sempre lì Cerca di entrare più al signor Ok Fusco e Noi C'è un mezzo punto C'è un mezzo punto No no Zero Ragazzi devo cercare di risollevare la situazione Con almeno un gol Beh uno andrà di La messa un po' più avanti Però Primo tiro Vai Arrivai Ok Sono spaccato il piede Solo per sto tiro Vai Enrico Attenzione Rimbalza Quindi puoi solo pareggiare Puoi solo pareggiare raga Vediamo Fuori Prima Prima Vabbè Zero punti Secondo me questa challenge L'avevamo vinta noi Anche perché Come loro hanno preso il punto Nella linea E poi Vabbè Vabbè comunque abbiamo preso un punto entrambi Sia la squadra verde Che la squadra bianca Omar Ultima challenge Vediamo Il dato Che Cosa ci dice Serverà Attenzione Il numero 3 Che è già andato Vai a dire ma la ritira Vai a ritiro subito così Andrea Velocissimo Numero 4 Già è asciuto Mannaggia la miseria Vediamo un po' Numero 1 Ragazzi Era la tira al volo La numero 1 Ok La tira al volo questa volta In piscina Ce l'alza Harry Comincia la squadra bianca Sempre 3 tiri a testa Ogni gol E' un punto Ok Pronto Vai Vai questa Ma c'è un alternato Vai Omar Sì Andrea Vai Omar Bravo Eeeh Con il ginocchio Andrei Schiava a tiro Al volo con il ginocchio Al volo Eh comunque è un tiro È un tiro Andrea vai Ok Vieta Vieta Omar Ha brato la doppietta Con il ginocchio Vabbè Oh che miseria Omar confidenti dai Dai ti prego Almeno 2 Noo L'ha schiacciata È schiacciata troppo Solo un punto Vabbè Speriamo che basti per vincere Sotto a noi Dai Vi fai qua 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 Stava andando in faccia Sempre in sinistro Questa volta Dai eri completamente forse Vado Dai eri Noo Stava andando in faccia Peccato Dai andrei Vai 3 Donasso Marato 3 Vai Mi perdi hanno la possibilità Per ora però siamo in vantaggio Vabbè Forza Verdi Allora Vai Bella questa Mi è piaciuta Forniciata Già lo so Dai Dai Tati Dai Vai Tati Vabbè Vai Mirko Vai 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 Calcio all'acqua Lo contiamo Ha toccato il pomone Qua Voleva camminare sull'acqua Una seta a terra Me la dà 1 2 3 Grande Grande Quindi Il team rosso Eccoli qui Hanno vinto E quindi Vi consegniamo Il premio di Golador Ragazzi Un pacco di Tricolor Golador Beh Harry Che fai Ti dei privi Ah che bel premio Vabbè però Se fosse buoni Siamo in estate Siamo tra amici Condividono le cose Grazie Per provare queste nuove Golador Andate nel primo link In descrizione Quindi ragazzi Buona mangiata A tutti quanti Mi raccomando Lasciate tanti mi piace Per una prossima challenge E per provare le nuove Tricolor Golador Andate nel primo link In descrizione Quindi lasciate un bel mi piace Un bel commento Iscrivetevi al canale Noi ci ricerciamo Nel prossimo video Bene ragazzi Noi ci ricerciamo 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 Noi ci ricerciamo